l'artista esistenzialista buona giornata a tutta lo signore buon appetito che cosa c'è qui in questo piatto è questo è un hamburger di tonno cipolla caramellata signor di me anche di salatini perché sai non posso ingrassare più di tanto pomodori ecco delle patatine pepate come sono le patatine cipolla e pepe credetemi una delicatezza guarda il croccante della cipolla caramellata che ha un sapore dolciastro per certi versi la tenerezza dell'hamburger e poi la freschezza del pomodoro e un po' il pepato della patatina buon appetito all'artista esistenzialista un po' il pepato della cipolla